Giovedì 22 agosto, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, ben ritrovati qui sul mio canale di Primo Mattino, partiamo presto, subito perché il contenuto che vado a sviluppare porta delle importanti novità, ma soprattutto delle grandi speranze per quello che è il mercato della Juventus, sia in uscita che in entrata, perché chiaramente tutto è collegato tra sé. E quindi, prima di sviluppare il contenuto, lasciare spazio poi come sempre ai vostri commenti, ringraziandovi per il seguito, la partecipazione, i tanti messaggi che lasciate sotto i contenuti, vi invito, se ancora non siete iscritti al canale YouTube a iscrivervi, azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo a questa puntata, sperando possa essere stata di vostro gradimento. Dunque, nella giornata di ieri la Juventus, vi avevo raccontato, avrebbe avuto colloqui con la Fiorentina per trovare l'intesa sull'operazione che deve portare, dovrebbe portare, Nico Gonzalez alla Juventus. Bene, ci sono stati dei colloqui, non si è trovata assolutamente la quadra, la situazione, d'altra parte era bello pensarlo, ma difficile che questo si verificasse, che al colloquio tra Juve e Fiorentina si sarebbe arrivati immediatamente alla soluzione del caso. Soluzione del caso che non poteva arrivare perché la Fiorentina, per volere del proprio presidente commisso, continua a sparare alto. 40 milioni per l'accessione del calciatore che piace anche all'Atalanta, Juventus che vuole anticipare i tempi rispetto all'acquisto di Kukmeiners per i motivi che vi ho già spiegato e pensava di farlo, chiudendo l'operazione intorno ai 30 milioni di base fissa più qualche bonus. Così non è stato, le parti si ragioneranno, alla Fiorentina è stato richiesto da parte di Nico Gonzalez di fare di tutto e di più per consentirgli la possibilità di vivere questa nuova esperienza. Vuole la Juventus e quindi l'operazione è indirizzata, ma serve che la Juve alzi l'offerta alla Fiorentina, vedremo quel che sarà, ma attenzione perché non è soltanto Nico Gonzalez l'attualità, non è solo Nico Gonzalez l'aggiornamento che vi devo portare, l'aggiornamento che vi devo portarvi riguarda soprattutto Federico Chiesa perché si sta sviluppando qualcosa che probabilmente era impensabile fino a qualche giorno fa e invece grazie alla grande manovra ed opera di Ramadani il giocatore della Juventus potrebbe veramente finire al Barcellona. Dalla Spagna aggiungono informazioni che il Barcellona stia facendo veramente sul serio sul calciatore dopo aver capito che il primo obiettivo Rafa Leao sia un qualcosa di ormai difficilmente raggiungibile in così pochi giorni di mercato, il Milan tra l'altro lo ritiene assolutamente eccedibile e quindi l'obiettivo numero uno dopo Rafa Leao è diventato quello di Federico Chiesa perché è un calciatore comunque importante, è un giocatore che può spostare gli equilibri ma lo può fare soprattutto perché ha un prezzo piuttosto invitante. Per il calciatore potrebbe essere in arrivo, già nella giornata di oggi la prima offerta del Barcellona, la Juve chiede C15, presumibilmente l'offerta del Barcellona sarà intorno ai 10 milioni di euro più qualche bonus, probabilmente le parti come nel caso di Juve Fiorentina si ragioneranno, il tempo stringe, la Juve ha fretta di cedere, tra l'altro ringrazio coloro i quali mi hanno dato l'imblecata corretta rispetto a quanto vi avevo riferito, mi risultava forse circa 18 milioni a bilancio per evitare la minusvalenza, mi è stato riferito che invece da alcuni utenti che seguono il canale e quindi grazie ancora che dovrebbe essere a bilancio per circa 14 milioni, quindi servono quelli per evitare di fare minusvalenza. Io credo che alla fine davvero la cosa possa arrivare a Dama anche perché non credo sia nell'interesse di Federico Chiesa passare un anno separato in casa in tribuna perché l'abbiamo visto chiaramente anche dopo la prima giornata di campionato Federico Chiesa e la Juventus sono assolutamente due mondi completamente distanti e distinti, di conseguenza credo che a Chiesa convenga di fare di tutto e di più per trovare la quadra, per uscire e farlo magari consentendo alla Juventus di evitare appunto questa minusvalenza, il Barcellona ha pronto un contratto per il giocatore da circa 6 milioni di euro a stagione, anche qui il giocatore verrebbe fondamentalmente accontentato perché rispetto a quello che avrebbe proposto la Juventus per un prolungamento di contratto andrebbe a guadagnare di più, tra l'altro diciamocelo molto francamente, passare dalla Juventus al Barcellona, beh con tutto il rispetto non è poi un passo peggiorativo della propria carriera. Quindi Juventus, Ramadani, Barcellona con chiaramente Federico Chiesa massimo comun denominatore stanno lavorando per trovare la soluzione definitiva a questa transazione che ripeto, a quest'operazione che ripeto fino a qualche giorno fa sembrava assolutamente impossibile. Invece ci sono ottime probabilità sia per come rimbalza dalla Spagna, sia per quelle che sono le informazioni presenti anche qui in Italia e che io stesso ho avuto modo di verificare nella giornata di ieri pomeriggio, bene perché se la Juventus dovesse veramente fare l'uscita di Federico Chiesa, beh avrebbe allora davvero la possibilità di mettere a referto nella rosa della prossima stagione ancora due esterni offensivi. Il primo, l'abbiamo detto, è Nico González, si parla tanto di Francisco Conceisau che però in questo momento reputo essere un'operazione difficile perché il Porto è disposto sì a cederlo in prestito ma avrebbe l'obbligo di riscatto, in questo momento la Juventus non è le condizioni di poter lavorare in tal senso e allora attenzione perché ve l'ho già detto più volte, ve l'ho raccontato un mese fa, torno a risottolineare quello che vi disse un mese fa, quello che era il primo nome alla voce esterni per quanto riguardava Cristiano Giuntoli e lo stesso Tiago Motta, ovvero Gedeon Sancho, torna prepotentemente in auge. Non è assolutamente da escludere che negli ultimi giorni di mercato se, ribadisco come vi dissi già un mese fa, Gedeon Sancho non dovesse lasciare il Manchester United per un'operazione a titolo definitivo, ecco che l'operazione con la Juventus in prestito può tornare davvero ad essere un qualcosa di serio, di concreto e il mio auspicio, al di là di quelle che sono le notizie che vi devo portare e raccontare per quello che posso io sapere, ecco a me sinceramente farebbe assolutamente piacere e aggiungerei anche abbastanza impazzire una Juventus che nel compito generale delle operazioni andrebbe ad inserire un esterno del calibro e del valore di Gedeon Sancho. Gedeon Sancho che a Manchester non ha fatto bene ma che quando ha avuto la possibilità di dare in prestito, anzi di tornare al Borussia Dortmund, devo dire che ha fatto più che bene dando dimostrazione di quelle che sono le sue qualità che potrebbe mettere al servizio dei bianconeri. Ma c'è un'ultima operazione della quale non ho ancora parlato ma vi ci torno perché nei commenti chiaramente siete sempre attenti a sottolineare come la Juve non farà quest'operazione, come la Juve potrà fare quest'operazione, come la Juve non debba fare quest'operazione, parlo ovviamente di Teocup Miners e rispetto a quello che vi ho raccontato io credo che da un punto di vista dell'operazione non vi siano quasi più dubbi che l'operazione alla fine andrà in porto. Ovvio che l'atteggiamento tenuto da Miners con il reiterato invio di certificati, il reiterato atteggiamento volto a marcare visita agli allenamenti non può che indisporre sempre di più l'Atalanta nella figura di percassi e quindi nonostante sia un'operazione che io credo alla fine andrà in porto perché ormai credo convenga anche all'Atalanta incassare la cifra proposta dalla Juventus piuttosto che tenere un giocatore che obiettivamente sarebbe anche di difficile reintroduzione dopo tutta questa chiarella che c'è stata, sarebbe un ambiente ostile a lui e soprattutto mancherebbe all'Atalanta la possibilità di fare un grosso incasso alla luce poi del fatto che l'Atalanta comunque si è parata tra virgolette in fondo schiena avendo inserito in organico giocatori atti a sostituirlo. L'ultimo Brescianini che è stato autore tra l'altro di una prestazione è vero si giocava a Lecce ma si giocava in trasferta a Lecce di tutto rispetto e quindi oltre ovviamente a Samarzic inserito in rosa. Ovviamente dicevo un'operazione che credo a questo punto non possa non andare in porto però lo sarà, questo avverrà alle condizioni dell'Atalanta che non sono, non parlo di condizioni economiche, parlo di condizioni dettate dalla tempistica. Quindi l'Atalanta tende a tirarla un po' per le lunghe perché ribadisco, indispettita dall'atteggiamento del calciatore, indispettita da questa situazione e quindi pur avendo capito che ormai sul giocatore non può più fare nulla, avendo anche tra l'altro ripeto un'offerta molto congrua per le mani. Io penso che Theon Cup Miners magari non domani, non dopodomani ma entro la fine del mercato sarà un calciatore da Juventus. Juventus che ha imbastito l'operazione con il Genoa per un doppio trasferimento, quello di Muaremovic e quello di Fabio Miretti. Anche Fabio Miretti è stoppato in questo momento, lui chiede di poter andare a giocare per avere maggiore possibilità appunto di impiego in campo rispetto a quelle che probabilmente non avrebbe alla Juventus, però anche qui siamo in attesa chiaramente che la Juventus metta a referto l'ingresso di Cup Miners. Quando questo sarà avvenuto molto probabilmente partirà Miretti o se partirà Miretti sarà perché la Juve ha avuto il via libera definitivo per l'arrivo di Theon Cup Miners. Quindi ricapitolando, occhio al trasferimento di Federico Chiesa che potrebbe già in giornata ricevere la Juventus la prima offerta ufficiale da parte del Barcellona. Lui con il Barcellona non avrà problemi a trovare la quadra perché si parla di un'offerta di ingaggio di circa 6 milioni di euro e quindi mercato della Juve che anche in uscita potrebbe regalare delle buone notizie rispetto a quelle che erano le situazioni e le condizioni di cui avevamo parlato sino a qualche giorno fa. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre, fino alla fine. Ciao!